oh oh c'ho un maialino la sopra raga stanno fightando stanno fightando minchia gli entro di prepotenza raga bravo in faccia in the face in the face attenzione così attenzione così attenzione così allora poi intanto prendiamo subito questo e ci curiamo proprio veloci veloci come la luce dai 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 in the face in the face yes i shot in the face ciao ragazzi ciao 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 a tutti ragazzi scusate se non vi sto leggendo scusate se non vi leggo ma stavo sparando in faccia alla gente allora via la pistola dentro bello bello il porco giuda allora via la mitraglia ok tanto prenditi gli shieldi minchia c'aveva otto shield c'aveva otto shield questo raga 238 colpi di fucile a pompa 600 madò madò no vabbè no minchia cosa c'aveva questo minchia c'aveva questo minchia lascio giù gli shieldini raga madò cosa c'aveva questo e non lo so se ho risolto il problema amico mio oh raga siamo in 6 carica questo questo ok ma cosa c'aveva questo ma quanti materiali ho no vabbè ma ragazzi ma non è possibile ma non è possibile e cento shield non li posso prendere raga ma che cacchio c'aveva questo ma com'è possibile che abbia tutto quanta gente aveva ammazzato ma quanto gente aveva ammazzato questo ma stai scherzando no mica qua mi faccio il fortino raga qua mi faccio morco giuda mi faccio il fortino mi faccio il fortino te stai scherzando per davvero ma tu ma chi cacchio che lato un attimo ragazzi miei un attimo che è successa una cosa che non era mai successa questo è un rischio pronto dai 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 oh 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 il lanciarazzi il lanciarazzi dai 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 38 rocket 38 rocket via 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 porca gnoffa porca gnoffa no non mi sono fatto male porca gnoffa no sono fuori safe porco giuda di un pelino di un pelino sono fuori safe no vabbè ma ma questa ragazzi non la so neanche io questa non la so neanche io raga perchè non mi fa modificare modifica fammi modificare ma perchè non mi fa modificare ogni tanto non mi fa modificare no vabbè raga non la posso perdere questa ma toh ma toh ma toh ma toh ciao giro ciao ragazzi ciao ragazzi dai ragazzi dai scusate se non mi sto leggendo raga ma c'è una macchina là sopra vai eh lo so che sono in alto potrebbero essere in alto potrebbero essere appunto quella mi faccio il mega fortino là raga no no stai male mi faccio il mega fortino là dai sì ma questo non poteva avere questi materiali raga minchia fortino prepotente in metallo raga un attimo solo ok scalette perfetto easy easy continuo a buildare in metallo continuo a buildare in mattone sparano sparano di brutto raga sparano di brutto raga ok 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 stai male scusate se non vi leggo raga oh quanto sto costruendo e non me lo fa modificare un attimo un attimo ragazzi un attimo un attimo allora siamo in tre siamo in tre porca miseria siamo belli alti eh siamo belli alti raga cinque trappole tre innanzitutto innanzitutto mi prendo kit medico non me ne frego cazzo con la già missile guidato mi prendono male avete ragione avete ragione arrivo ragazzi adesso mi copro adesso mi copro adesso faccio la parte finale raga allora uno due due costruisci qua tre quattro cinque con tanto di troc manca un buco manca un pezzo ok 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 minchia che fortino devo aver costruito raga ok e da qua no lo devi colpire coglionazzo lo lo devi colpire riparalo non mi fa modificare oh f modifica oh raga non mi fa modificare non posso fare le finestre ma perché non me lo fa modificare ma non me lo fa modificare raga non me lo fa ok adesso si perfetto easy easy sneaky 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 grande eeeh non me lo facciamo modificare raga non so cosa dirvi ripara ma non capisco perché non mi oh raga non mi cazzo fa che vuole buttare giù il fortino non mi fa modificare raga eh il bot lo potevo prendere eksi poco giù dai eeeh 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 non male sneaky 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 okay ah 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 Aspetta! No, 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 no! Sneaky, sneaky. Non sa che sono caduto. Non sa che sono caduto. Non sa che sono caduto, raga. Non sa che sono caduto. Non mi vede perché c'è davanti la scala. Sneaky. E quella merda è dentro, eh. Non mi fido a spara... Siamo in due! Siamo in... Mi cagliano, tirano giù. Oh! Oh! Oh, cazzo, non c'era nessuno. Grande! 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 E la andiamo a vincere! E la andiamo a vincere dopo un fattio di tempo! Dopo un fattio! Grande! 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 Ha ha! Grande! Pronto! Mamma Cie D'Italia! Mamma! E la e παona— Piancaczyć! Mamma Cielo! Grazie a tutti.